Due Elisa Folli che dovrebbero andare a 10 Inaugurazione con la compagnia dei Folli Che non sono i parenti di Elisa Allora ci siamo Tenete pronti? Allora ci siamo Inaugurazione con la compagnia dei Folli Non è l'occasione del mio nome Ma sono Maina All'esterno All'esterno Raga Poi gioco a Castolina E poi in Quinto Per Alessia Pitatore Si mette in quinta Raga Medaglia d'argento E qui siamo Sono già stati quindi 8 Sono 4 punti di vantaggio Sono 4 punti di vantaggio Se ne va